DICONO CHE SI VIVE SOLO DUE VOLTE STASERA 21-25 RETE 4 PER IL CICLO IL MIO NOME BOMBDA MI Hanno detto che è stato in vacanza Poco riposo ma molte soddisfazioni Ci aspettiamo da lei normale, solido lavoro Sei sicuro di fare la cosa giusta? Sean Connery Sì James Bond Agente 007 Una cascata di diamanti Sabato alle 21-25 RETE 4